Ciao! Bentornati e bentornate al podcast di Italiano Bello. Io sono Irene, insegno il latino e l'italiano online e questo è il mio podcast di italiano. Troverete episodi sulla mia vita quotidiana, sulla vita di tutti i giorni. Troverete episodi in cui rispondo alle domande che mi fate voi, domande di grammatica. Troverete episodi in cui parlo del lessico, cioè delle parole italiane o della cultura italiana e troverete delle interviste. Oggi sono qui per rispondere a una domanda che alcuni miei studenti mi fanno, cioè i pronomi personali egli e ella, essi e esse si usano ancora o sono vecchi o sono ormai vecchi e non si usano più. Rispondo tra un momento. Prima di rispondere voglio dirti che se ancora non sei nel canale telegram di Italiano Bello devi farlo perché lì vedrai tutti i video, tutti i podcast che pubblico e saprai subito quando pubblico un nuovo video. Trovi il link qui sotto e nel canale telegram potrai anche commentare e parlare con altre persone che studiano come te l'italiano. La seconda cosa che voglio dirti è di guardare il link qui sotto, pronti partenza via e se il corso ti interessa iscriverti subito. Bene, dette queste cose cominciamo. Nel mio corso di italiano, italiano naturale, leggiamo un libro. Il libro si intitola L'italiano secondo il metodo natura. Ci sono alcuni podcast qui in cui spiego cos'è il metodo natura o il metodo naturale. Puoi questo libro è abbastanza vecchio. È stato scritto negli anni 50, 1950 più o meno. Il libro è bello e particolare perché nel libro si racconta una storia, la storia della famiglia Rossi. La famiglia Rossi va in vacanza, ha delle avventure, insomma c'è una storia, c'è una trama, ci sono dei personaggi e questo libro insegna l'italiano senza insegnarlo. Cioè il bello di questo libro è che impari la lingua italiana e la cultura italiana senza studiare la grammatica in modo esplicito. La grammatica si impara ma si impara leggendo, ascoltando, parlando, facendo gli esercizi e quindi questo rende più divertente, più facile, più veloce imparare l'italiano. Se vuoi sapere più di questo libro, l'italiano secondo il metodo natura, iscriviti a pronti partenza via perché nel giorno 3 spieghiamo bene come funziona. Ma oggi voglio dire questo. Come ho detto il libro è stato scritto molti anni fa, negli anni 50. La lingua italiana si evolve, cioè cambia nel tempo, non è sempre uguale, non è sempre la stessa. L'italiano è un po' cambiato negli anni. Non è cambiato tanto ma è cambiato un po'. Nel libro infatti si trovano alcune parole o alcune forme che oggi non si usano più o si usano meno. Una di queste forme è egli, ella, essi, esse. Infatti nel libro ogni tanto si leggono frasi come Pia è la sorella di Bruno, ella è la sorella minore. Oppure Annibale è americano, egli andò in Italia per riscoprire le sue origini. Questi sono esempi. E i miei studenti mi chiedono egli, ella, essi, esse si usano ancora oppure no? E la mia risposta è dipende. Oggi nell'italiano parlato non sentirai quasi mai dire egli o ella, essi o esse. Sentirai più spesso dire lui, lei e loro. Per esempio non dico Marco è italiano, egli abita a Venezia. Dirò Marco è italiano, lui abita a Venezia. E non dirò Giovanna è italiana, ella abita a Genova. Dirò Giovanna è italiana, lei abita a Genova. E così per il numero plurale. Non userò essi, esse. Userò loro. Loro va bene per il maschile e per il femminile. Per esempio loro sono i miei amici. Non dico essi sono i miei amici, dico loro sono i miei amici. Però troverai ancora queste forme, egli, ella, essi, esse, in alcuni contesti, in alcune occasioni. Quando? Li troverai nei contesti più formali dove la lingua è meno quotidiana, meno colloquiale e più alta. Li troverai per esempio in alcuni romanzi, in alcuni libri che raccontano storie, non in tutti ma in alcuni. Li troverai nel linguaggio giuridico, cioè nel linguaggio della legge. Lo troverai in alcuni contesti burocratici, in alcuni articoli di giornale. Quindi nel parlato queste forme non si usano quasi più, nel linguaggio scritto si usano a volte. Un'ultima cosa che voglio dire è che nell'italiano parlato in realtà non si usano molto spesso neanche lui, lei e loro. Che cosa voglio dire? In italiano non è obbligatorio esprimere il soggetto, cioè io posso dire Irene è italiana, lei insegna l'italiano, ma posso anche dire Irene è italiana, insegna l'italiano. Non devo ripetere lei, posso ma non devo. Quindi se vuoi che il tuo italiano sembri più naturale, ti consiglio di non ripetere sempre lui, lei, loro. Puoi dire loro sono Marco e Giovanni, sono i miei amici. Non c'è bisogno di ripetere loro sono Marco e Giovanni, loro sono i miei amici. Perché in italiano non è obbligatorio esprimere il soggetto. Spero di aver risposto alla vostra domanda. Se hai dei dubbi puoi scrivere un commento e se vuoi sapere come puoi imparare con l'italiano secondo il metodo natura iscriviti a Pronti Partenza Via.